Cultura della legalità e la tutela dei prodotti. Alla Camera di Commercio si svolge un convegno che è diretto sia ai consumatori che ai produttori. L'importanza è capire quanto sia necessario tutelare il prodotto. Cosa c'è dietro? La Camera di Commercio di Pescara in questi mesi sta ponendo grande attenzione a questa materia. La tutela della legalità con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari. Si rivolge in questo momento alle scuole, agli studenti e alle imprese del territorio perché capisce che oggi in questo momento questa materia è particolarmente sentita anche dai nostri imprenditori. Non solo che si rivolgono al mercato interno ma anche che si rivolgono al mercato dell'export. E quindi tutela della legalità, tutela dei prodotti vuol dire anche adottare sfide vincenti per le nostre imprese per superare meglio la crisi. A cosa sono sottoposti? Quali sono i rischi per i prodotti? A cosa bisogna stare attenti? Sostanzialmente bisogna stare attenti alla contraffazione alimentare. Sul piano interno ad aziende poco serie che minano la credibilità delle nostre imprese sul territorio nazionale. E sul tema l'export c'è un mondo di aziende, spesso non italiane, alcune volte anche italiane, che mettono in commercio dei prodotti che sono simili italiani e che sostanzialmente tolgono mercato alle nostre imprese. E verso di queste bisogna fare squadra, bisogna fare sistema tra pubblico e privato per evitare che queste imprese continuino a sottrarre mercato, business alle nostre imprese sane. Come possono riconoscere questi prodotti consumatori? C'è un modo per riuscire a capirlo? Diciamo che i profili in termini generali sono due. Saper leggere bene le etichette, sostanzialmente le etichette poste a retro dei prodotti, questo principalmente sul territorio italiano. Per quanto riguarda invece il territorio estero, sono invece i brand, alcune volte brand Cappello, che in termini tecnico viene dicendo look alike, cioè utilizzano tipo il parmesan per identificare il prodotto parmigiano. Quindi leggere le etichette, avere grande conoscenza della terminologia usata anche nelle etichette. Qual è un termine comune che può dare sicurezza al consumatore? Il Made in Italy sicuramente. Non soluzioni o terminologie diverse dal Made in Italy, ma tutto ciò che rappresenta l'italianità 100% è sicuramente garanzia di qualità per il consumatore.